Le rondinella sister are back. Amelia e Francesca tornano in concerto per inaugurare l'ottava edizione della kermesse culturale Castellabate il luogo dell'incanto. Organizzata dall'assessorato al turismo e alla cultura del comune di Castellabate, lontano nel sud, questo il titolo dello spettacolo, si terrà nella splendida corte del Castello dell'Abbate sabato 24 agosto alle ore 22 con Giosi Cincotti, piano e fisarmonica, e Arcangelo Michele Caso, violoncello. Amelia e Francesca rondinella si fondono in un unico canto suggestivo, un canto che riflette una simbiosi costruita in anni di live, unendo le differenti vocalità, i temperamenti artistici e le capacità interpretative propongono una lettura della canzone e della poesia napoletana filtrata dall'esperienza e dalla sensibilità di donne moderne, ma al contempo legate alla memoria e a un forte passato culturale. Con le rondinella si passa dal repertorio classico arricchito da brani di autori moderni ai grandi intoccabili classici, interpretati con lo stile che le contraddistingue e apprezzato anche oltre i confini nazionali. Il vice sindaco, con delega al turismo e alla cultura, Luisa Maiuri, commenta così il primo spettacolo di una kermesse, che vanta otto anni di successi. Apriamo nuovamente il sipario sulla rassegna di musica al castello dell'abate, luogo dell'incanto suggestivo e che ben si sposa con gli spettacoli di alta qualità scelti anche per questa edizione. Le rondinella, con il loro variegato repertorio e le calde tonalità del nostro sud, riusciranno a dare il giusto via agli appuntamenti nel centro storico, sempre più ricco di arte, cultura e bellezza. L'ingresso agli spettacoli è gratuito. I prossimi appuntamenti di agosto, con la rassegna Castellabate e il luogo dell'incanto, saranno il 27 con Walter Ricci, il 28 con le capinere variegato, il 29 con trio composto da Antonio Onorato, Gerald Cannon e Mario De Paola.